San Giuseppe, festa dei papà, festa dei lavoratori, un santo coraggioso ma anche tenero, ha sottolineato Papa Francesco nell'Omelia, nel giorno della cerimonia per la sua investitura ufficiale. E le sue parole, come sempre ricche di significato e dirette al cuore, sono rimbalzate anche ad Agrigento, dove a celebrare la messa nella chiesa di San Domenico, in assenza dell'arcivesco Montenegro, colpito da un lutto familiare, c'era il vicario generale dell'arci di oggi, Simonsignor Melchiorre Vutera. Guardiamo a San Giuseppe che è stato il custode, il custode innanzitutto della vita di Gesù, il custode di Maria ma il custode anche della chiesa e guardando a lui chiamava tutti alla responsabilità perché come Giuseppe diventiamo custodi l'uno dell'altro e il miglior modo per custodire l'altro, diceva, è l'amore, la tenerezza, la bontà, ecco che dobbiamo avere l'uno nei riguardi degli altri. Io credo che questo Papa possa veramente far risorgere questa chiesa ad una nuova primavera di grazia, di rinnovamento spirituale, morale, di rinnovamento etico. Può risuonare anche come monito a quanti hanno responsabilità a vario livello, sia sotto aspetto economico, sociale e politico, quando il Papa ha detto il potere deve essere servizio. Proprio così, il potere è servizio, ci ha ricordato il Santo Padre, mettersi a servire soprattutto gli ultimi, mettersi a servire per il bene, per costruire una società migliore e vorrei sottolineare ancora, il Papa ha richiamato tutti, aveva dinanzi i potenti del mondo a servire l'umanità, coloro di cui sono responsabili e un'altra sottolineatura faceva il Papa, questo servizio deve essere fatto con amore, con abdicazione, con grande, grande serietà e con grande attenzione. Alla fine della messa, come tradizione, prima la benedizione della minestra di San Giuseppe, poi la distribuzione ai fedeli e ai devoti. La benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo scelta su di voi e con rimanca sempre. Viva San Giuseppe! Signora, com'è la minestra? Buona, buonissima è, buonissima. Com'è la minestra? Eh, non l'ha assaggiata ancora, è calda. Assaggia, vediamo com'è. È calda, è buona, è calda, è buona. Per traduzione l'assaggiamo, è buona, è la festa di San Giuseppe. Giuseppe l'ha assaggiato pure, grazie, poi è buona anche. San Giuseppe è un modello da seguire? Un altro modello da seguire, San Giuseppe è tutto, ci provvede, è il Padre della Divina Providenza. È buonissima, ma ce la mangiamo per la devozione di San Giuseppe, almeno. È buona e poi è benedetta. È benedetta, è buona, è la devozione che io ho.